Benvenuta a Diamante, ci sono eccellenza, volevo chiedere, abbiamo parlato di legalità, di cyberbullismo, di ambiente, di droghe leggere con questi ragazzi e una cosa, non abbiamo sfiorato, forse perché non è arrivata la domanda dai ragazzi, della ludopatia, del gioco d'azzardo, che è una questione molto importante per loro, ma anche per i grandi, che possiamo dire, quale suggerimento possiamo dare a questi ragazzi per allontanarsi dal gioco d'azzardo? Sicuramente, come dicevo in altre domande che mi hanno fatto, cioè che le scorciatoie portano Saolo ed esclusivamente in un piccolo cieco, la stessa cosa è avvicinarsi alle macchinette, alla ludopatia, c'è un finto vantaggio, una finta vincita, però questa visita poi non fa altro che accanirti, farti rigiocare e alla fine perderai tutto. Quindi sicuramente il messaggio che oggi abbiamo voluto lanciare, dare a questi bellissimi giovani che mi auguro rimangano in Calabria e possano veramente dare qualcosa alla nostra terra, è quella che la legalità non è qualcosa che dobbiamo conquistare, la legalità è ogni giorno, ogni giorno dicevo rispettando le file, non mettendo il casco, non facendo capire che il bullo è il debole, la persona malata è la persona che va aiutata, il bullo non è il forte e quindi chi gioca alle macchinette non fa altro che arricchire le casse delle macchinette ma non potrà mai vincere e cambiare la propria vita. Quindi oggi considerare il nostro comportamento quotidiano la legalità, la legalità non la dobbiamo raggiungere perché qualcuno ci deve dire cosa dobbiamo fare ma quotidianamente dobbiamo lavorare solo con un grande impegno con la legalità, mi hanno chiesto ma come si compatte l'andrangheta? L'andrangheta è qualcosa come la gramigna, se noi l'alimentiamo cresce, se noi non l'alimentiamo secca e penso che proprio l'illegalità diffusa sia il suo concilio. Quindi cittadinanza attiva e non delegale. La ringrazio. Grazie e auguri a Dianna. Grazie. 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 Buongiorno, grazie per la vostra presenza a questo evento eccezionale per la presenza della visita del signor prefetto della provincia di Cosenza, la dottoressa Paola D'Aleone, nella nostra città. Eccellenza, a nome mio personale e dei cittadini di Diamante che ho l'onore di rappresentare indegnamente quale commissario straordinario le porgo il più caloroso benvenuto. Devo dire, signor prefetto, che la sua visita ha determinato in questa comunità una forte emozione, un'emozione comunque sincera, schietta, onesta, in sintonia con quelli che sono i sentimenti della gente calabresa. È anche un'emozione mista d'orgoglio, se mi si può consentire di dire, perché oggi i tesori di questa città vengono aperti al prefetto. Diamante è una cittadina veramente tale, io l'ho definita un vero gioiello, è fortunata anche geograficamente come è posizionata sulla costa tirrenica nord-occidentale della Calabria, nel cuore della riviera dei Cedri e raccoglie anche nel suo territorio un punto fondamentale, una delle due isole calabrese in Cirella. Diamante bisogna anche dire che si è rinnovata nel rispetto di quelle che sono le forti testimonianze del passato, che offrono senz'altro al visitatore una vera e propria sequenza monumentale in un contesto urbano che veramente non ha uguale, un centro storico meraviglioso con delle immagini veramente suggestive, quale ci sono date dalle murales, che ricoprono un po' tutte le pareti dei vicoli delle stradine. Diamante è chiaro che è una terra, io la definirei molto ma molto generosa, per come si presenta ci sono queste grandi montagne ricche e floride che sicuramente si prestano alla coltivazione e comunque all'allevamento, ci sono i prodotti tipici locali che ovviamente sono il peperoncino calabrese e il cedro, i ragazzi sicuramente poi nelle slide che ci proietteranno ce ne diranno tante e tante altre di queste belle notizie e questo è chiaro che gioca di fronte a questa bellezza del territorio, il turismo ha un ruolo veramente dominante sul piano economico, grazie anche ad una costa con delle spiagge bellissime e bianche di un mare cristallino. Eccellenza, tantissime sono anche le manifestazioni che si svolgono su questo territorio e che hanno soprattutto piede nel periodo estivo. Ritengo comunque che per me è doveroso menzionarne due tra i tanti, che sicuramente lei è già informata, c'è il peperoncino festival che si svolge ogni anno il mese di settembre e poi c'è una festa spirituale dell'incoronazione della Madonna dell'Immacolata che si svolge nel mese di agosto. E qui da quello che mi hanno raccontato anche i miei responsabili dei servizi comunali e quindi un po' i cittadini del territorio, la tradizione narra che la statua della Madonna che veniva trasportata su un bastimento venne riparata proprio per preservarla nella chiesa dell'Immacolata perché il bastimento era rimasto bloccato nel porto. L'indomani il parroco notò che la statua della Madonna aveva cambiato postura, quindi non aveva più le mani incrociate ma aveva questo braccio sollevato con tre dita aperte in segno proprio di protezione verso Diamante e quindi da allora la popolazione in festa non fece più rientrare la statua sullo bastimento. Ecco eccellenza, questi soltanto alcuni in estrema sintesi di quelle che sono le cose belle di Diamante. Certamente Diamante come tutti gli altri comuni e della provincia ha le sue terrificità. Ma noi per oggi, questo giorno così gioioso per la sua presenza e di questo dono che lei ci ha voluto fare, vogliamo non pensarci e vogliamo richiamare quelle che sono veramente le potenzialità del territorio. Signor Prefetto, io... Grazie, io le voglio... E se l'è, le rinnovo ancora il saluto a nome anche dei rappresentanti istituzionali qui presenti e rendendomi anche partecipi dei cittadini con i sensi della mia più alta stima verso la sua persona e anche per l'alta carica che lei ricopre, mi consenta anche di dire che oggi per Diamante è sicuramente un'opportunità scrive una bella pagina della sua storia. Grazie, eccellenza, per la sua vista. Grazie mille, grazie mille, eccellenza, è anche un ricordo di questa visita, ecco giusto un ricordo. No, ma è bello ed è bello anche perché normalmente ci sono le targhe, no? Le targhe un po' anonime e effettivamente la riproduzione è un ricordo ancora maggiore che mi può accompagnare, poi io anche se nel futuro andrò via da Cosenza mi piace portare anche le targhe, po' perché sono ricordi di alcuni momenti che rimangono e ritornano poi nella memoria. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno signor Prefetto, signor Commissario, signora Dirigente, intanto volevamo ringraziare la dirigente scolastica che ci ha permesso di essere qua, io sono Giada Mastromanchi, della scuola secondaria di primo grado, di Diamante, abbiamo realizzato questo lavoro perché con le nostre insegnanti pensavamo di fare un figo nostro, di classe, in cui potevano essere messi nei livelli, avevamo pensato anche di rispondere poi l'idea a tutte le classi del nostro istituto, questi su Diamante sono stati i primi lavori che abbiamo realizzato proprio per valorizzare la storia, la cultura e le bellezze del nostro territorio. Grazie. 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 Signor Prefetto, io sono Maria Cristina Ritta, sono il dirigente scolastico dell'ICI di Amante. Un caloroso benvenuto al nome del personale della nostra scuola e degli annuni. un grazie per essere qui tra noi e un ringraziamento particolare anche al nostro commistario che ha permesso a questi alunni di fare questa esperienza significativa perché il compito della scuola è quello di formare i nuovi cittadini. noi parliamo di legalità, di istituzioni, dell'importanza di questi che, cioè parliamo di ciò, di cose di cui loro non toccano con mano all'interno di una classe, questi concetti quasi sembrano stati. di avere l'onore oggi di avere un prefetto che raggiunge gli alunni, non solo gli alunni che vanno in prefettura, è un momento veramente determinante e significativo che dà senso e valore a tutto ciò che si fa e si dice a scuola. io passerei la parola appunto ai ragazzi perché hanno preparato tante domande ed è importante che si credi proprio questa interazione diretta con lei. anche se non ve le siete preparate mi viene in mente qualche domanda, siamo aperti a tutte le iniziative. come ti chiami? che classe? che classe? buongiorno a tutti, cosa ne pensa di coloro che senza alcun merito riescono ad ottenere un titolo di studio o un lavoro solamente grazie a qualche raccomandazione? devo rispondere subito? allora quello che rispondo è quello che noi stiamo cercando, poi concluderò con un messaggio vedi quelle si chiamano scorciatoie, queste sono delle scorciatoie che ti potrà capitare nella vita anche qualcuno te le propone, però il problema è uno fondamentale, la scorciatoia poi porta sempre a un vicolo cieco perché chi ha conseguito un diploma alla prima occasione utile un concorso non lo supera, chi fondamentalmente ha anche conseguito una laurea ecco in maniera sempre con la cosiddetta scorciatoia successivamente al primo ostacolo cade, quindi la scorciatoia ricordatelo sempre, sembra un grande viaggio, un sogno invece è un sogno che porta sempre a un vicolo cieco quello dovete ricordare ok grazie 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 delle azioni che fa, quindi il politico che abusa del proprio potere è un politico che non fa bene il politico e di cui ovviamente pagherà sotto due punti di vista, perché non solo se effettivamente ci sono delle legalità dal punto di vista penale, però il politico, il primo banco di prova ce l'ha con la propria collettività, quindi se il politico abusa del proprio potere abbiamo due strade, se da questo abuso ne deriva qualcosa di penalmente rilevante ne risponderà anche il via penale, se questo abuso poi non si traduce ma è soltanto un abuso comportamentale, sicuramente la collettività non lo divoterà ed è il primo e più bel banco di prova. A proposito, ma qualcuno sta pensando già da grande di fare il sindaco di diamante? come no? E allora dobbiamo andare a prendere così, dobbiamo andare a un comune vicino, dovete, la politica, ecco noi veniamo e ripariamo anche questo, che la politica è anche una bella cosa fatta bene, come io dico sempre, che auguro, voi va bello dirò magari nelle parole finale, che la dottoressa Pino venga ricordata come l'ultimo commissario straordinario, perché il comune non dovrebbe avere mai, perché c'è il commissario? Chi mi sa rispondere? chi è? No pure io faccio le domande, perché c'è stata una crisi amministrativa, il sindaco è stato sfiduciato e c'era la necessità sino alle successive elezioni che si terranno a fine mese, che qualcuno potesse condurre fino alle elezioni. Ovviamente il commissario straordinario, io lo dico sempre, è sempre una medicina, perché è sempre una patologia dell'ente la presenza di un commissario, perché il comune deve essere amministrato da un sindaco che viene eletto dai propri cittadini. Ora quindi mi raccomando, la vedete, l'ultimo commissario, è stato bravo a tutto, però ora abbiamo bisogno di un sindaco che ovviamente la campagna elettorale poi cesta nel momento in cui il sindaco viene eletto, perché poi diventa il sindaco dei cittadini e rappresenta l'intera collettività. Grazie. Noi stiamo andando avanti per una società e stiamo lavorando moltissimo sulla integrazione, ma l'integrazione è un concetto molto complesso ed è un concetto variegato che non vuol dire soltanto la differenza di colore, ma vuol dire che le diversità devono essere affrontate come un valore aggiunto, non come diversità, diventano un valore aggiunto per la stessa collettività. Quindi noi stiamo sicuramente alle porte del muro e stiamo lavorando per questo, sicuramente per una società multietnica. Grazie. Mi dovete presentare chi siete. Qual è il suo ruolo e come si intratte questo tipo di carriera? Allora, però gli insegnanti io saluto e ringrazio in modo particolare per i dirigenti scolastici e con loro tutto il corpo insegnante che ha creato veramente delle classi meravigliose e delle domande pertinenti. Però scusami, io ora la faccio a te, poi ti dico che faccio, ma il prefetto che cos'è? Chi mi sa rispondere che cos'è? Vieni, che fa il prefetto? Chi è il prefetto che fa? Che fa? Legalizza di sta. Il prefetto è il rappresentante del governo a livello locale. Quindi tutto che vuol dire? Che quello voi dovete presentare delle istanze che devono essere trasmesse al centro e lo fate attraverso la figura del prefetto. Il prefetto coordi, ma secondo te, no, vediamo un po', la solita domanda, ma tra me e lui, beh, le indivise, chi è più? Chi è più importante? Vedi tutti loro, vedi? Chi è più importante? Io lo so. Io? Ah, e li abbiamo preparato bene, perché ovviamente non parliamo di rapporto generale, ma di rapporto funzionale, il prefetto ha il coordinamento delle forze dell'ordine. Facciamo un esempio pratico, che vuol dire? Allora, c'è una partita allo stadio, c'è una bella partita che è Roma-Lazio, una partita difficile, un bellissimo tempi, è Napoli-Juve, 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 Napoli-Juve e bisogna decidere se la partita ci gioca a Napoli, se i tifosi gioventini devono venire, se la dobbiamo fare. La partita la possiamo far giocare, o Napoli-Juve, o possiamo vietare gli ospiti, oppure a porte chiuse, oppure limitare il numero. Queste cose, secondo voi, dove vengono decise? Vengono decise in Prefettura, perché in Prefettura esiste un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove all'interno c'è il sindaco della città, il Presidente della Provincia, il Comandante Provinciale dei Garabinieri, della Guardia di Finanza, il Questore. È di volta in volta, secondo la necessità, l'organo che vi deve dare la consulenza, che può essere in quel caso anche il Presidente della società. Allora, il Prefetto dice, ok, la partita la facciamo giocare con un numero proporzionato a quanto è grande lo stadio, perché lo stadio è grande. Poi, però, oltre questa capienza non si può andare. Poi c'è il Questore, e il Questore poi fa un'ordinanza in cui dispone quelli che devono essere il numero di Carabinieri, la Guardia di Finanza, come dobbiamo, e loro poi vanno ad un incontro tecnico e quindi decidono poi, però, temperare a questa direttiva come materialmente bisogna mettere quanti uomini e come vengono utilizzate le disposizioni. Questo va bene. Il Prefetto, che cosa fa? Qui sono tutti bravi, ma ci sono anche, addirittura, penso che qui a Diamante non ci sia, ci sono le persone che fumano qualche canno, sicuramente qua a Diamante non ce ne sarà neanche uno, perché lì, se una persona viene poi fermata dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, da qualcuno, fanno un verbale e questo verbale arriva in Prefettura e viene inserito in una banca dati. Per cui, se da grande poi qualcuno deve fare un concorso che vuole andare in Accademia della Guardia di Finanza, allora digitiamo il nome e questa cosa rimane scritta per sempre, però non è il caso, qui sono tutti bravi, poi a Diamante non c'è, non c'è questa cosa, quindi sicuramente non è il caso, però il Prefetto fa quello. Il Prefetto vi ferma anche, vi fermano loro, non ci mandano i verbali anche dell'alcol test, perché meglio bisogna guidare se si ubriachi, perché si fa male a se stessi, ed è meglio che noi togliamo la patente, come si dice, è meglio togliere la patente a un ragazzo vivo e non riportarlo dopo successivamente a casa una cattiva notizia ai genitori. Quello il Prefetto fa un po' di tutto, insomma, quindi fa tutte queste cose e si accede con un concorso pubblico nazionale, quindi ho superato un concorso nazionale. Ma nessuno vuole fare il Prefetto di voi? Però se qualcuno vuole fare il Carabiniere lo trovo? E la porta di finanza? Che volete fare da grandi? Ciacciatore. Ehi, ciacciatore. Allora, però dovete comunque studiare, perché sennò, cacciatore ignorante, poi diventi, voi voglio finire sul peggio, ok? Così sarei brutte battute. Grazie. Le altre domande? Sennò Prendesco Bruno della Prima B. Cosa ne pensa del problema di migrazione? Il problema di migrazione noi l'abbiamo affrontato, ovviamente, ecco, una cosa che io voglio chiarire, il Prefetto della Repubblica, abbiamo detto che rappresentano il governo, che vuol dire? Che rendono attuali quelle che sono le direttive del governo, quindi io qui esprimo una direttiva del governo, cioè quello che può essere, diciamo, il pensiero mio personale, come della collega chiesta, è un pensiero che non fa testo in questo momento. Certo, abbiamo avuto dei grandi momenti in cui io sono stata prima a Benevento, dove effettivamente abbiamo accolto più migranti di tutto l'intero territorio campano, oltre 5 mila. Certo, l'immigrazione è comunque un fenomeno che va affrontato, ecco, con cautela, con intelligenza, con un insieme, ecco, di consapevolezza, perché è vero che ci vuole immigrazione, sicuramente l'accoglienza c'è, l'accoglienza deve farsi, bisogna evitare, come ci sono stati in periodi pregressi, anche un cattivo business, infatti noi abbiamo delle commissioni, una prefettura, che tutelano anche colore e vigilano sulle associazioni, perché, d'altra parte, ecco, il governo pagava, paga intorno a 30 euro al giorno al migrante, quindi noi dobbiamo anche garantire che, con, diciamo, queste 30 euro, io lo voglio sempre dire, perché spesso si arriva a una cattiva informazione, non sono 30 euro che vanno al migrante, perché altrimenti noi diciamo spesso, eh, migrante a 30 euro, studio in Italia, al migrante vanno 2 ore e 50, ecco, le 30 euro vanno alla struttura, ovviamente, ecco, è un fenomeno importante che va affrontato, va affrontato, oltredutto andrà affrontato in Europa e abbiamo le prossime elezioni europee e vediamo l'Europa che ci dirà. Grazie. Buongiorno, Francesco Pasquale della Prima B. Volevo chiedere, per noi ragazze, per le nostre famiglie, il problema di sicurezza di grandissima importanza. Come si dovrebbe garantire la sicurezza soprattutto nel periodo estivo? Certo, questo discorso della sicurezza è una sicurezza che deve essere gestita in maniera sinergica non solo tra il prefetto e il prefetto, ma in questo comitato che esamina tutte le situazioni che si svolgono a livello locale. Infatti, io dico, io durante la mia gestione da prefetto mi piace andare a conoscere la collettività perché ritengo un atto di rispetto nei cittadini di diamante, però le problematiche di diamante vengono comunque affrontate in prefettura anche se non fossi venuta. Però, ecco, un ruolo fondamentale lo ha la municipalità, il sindaco, perché? Se le videotele non funziona la videosorveglianza, noi non possiamo oggi immaginare di avere un carabiniere, un finanziario, un poliziotto su ogni evento. Quindi, il Ministero dell'Interno sta approvando anche dei progetti di videosorveglianza, ma bene farà il sindaco perché se le telecamere funzionano, noi, chi compie degli obiettivi illegittimi, noi ad ora svegliamo con la videosorveglianza. Quindi oggi anche il modo di affrontare è con la sicurezza. Poi, col stesso sindaco, ci sono le ordinanze per divieto di vendita di alcolici dopo 8 ore, divieto di bottiglie di vetro. Cioè, dobbiamo lavorare insieme e costruire un percorso di legalità, perché la legalità è un modo di essere, non è un obiettivo da raggiungere. Cioè, dobbiamo farlo quotidianamente, incominciando da voi. Perché se noi incominciamo a transitare l'isola pedonale col motorino, rompiamo le bottiglie, cioè noi che chiediamo la legalità agli altri? La legalità siamo noi. Cioè, diamante siete voi. Cioè, non è che diamante dobbiamo farlo a noi, le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine vi aiutano. Però voi dovete avere la consapevolezza che se voi rovinate un marcio al piede, se voi rovinate un giardino, non vuol dire che sorridete, vuol dire che il sindaco dovrà togliere dei soldi ad altre cose che avrete potuto fare per voi per aggiustare quello che voi avete rotto. Cioè, se il comune, perché se il comune voi stessi siete i primi a conservarlo in maniera bella, serena, perché è la vostra casa. Cioè, nessuno a casa vostra, ecco, butterebbe le carte per terra, romperebbe i piatti, lascerebbe le cose a me, non lo fareste. Il comune è la vostra casa. Chi viene da fuori? Perché noi diciamo tanto quanto è bella l'Umbria, andiamo a Gubbio e tutto pulito, andiamo ad Assisi e tutto pulito. E là sono le persone, sono gli stessi cittadini. Cioè, diamante è bella e è un diamante e tocca a voi aiutare, voi siete i cittadini del domani, eh. Quindi, tocca a voi, voi avete un grande senso di responsabilità. Gli adulti devono fare il loro, ma voi siete i primi. Grazie. Buongiorno. Io sono Sonia Giovine, fregando la seconda B. Vi volevo chiedere, perché secondo lei, davanti alla criminalità, molta gente rimane indifferente? Ma noi rimaniamo spesso indifferenti perché c'è questo, tra virgolette, sempre il muro di omertà e poi perché pensiamo sempre che quello che ci accade a noi non possa mai accadere, ma deve accadere sempre a chi sta a fianco a noi. Allora, se noi invece riuscissimo ad avere questa consapevolezza, a comprendere che oggi una cosa negativa, domani, può capitarmi e quindi essere anche in questo caso protagonista. Cioè, io se denuncio qualcosa che vengo, io faccio un bene per l'intera collettività. Noi spesso, e lo diciamo a volte, quando accadono degli eventi tramite, io voglio anche ringraziare con occasione l'arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, vedo la Maria, tutti loro che veramente state vigilando su questo territorio, perché voi siete, io dico i nostri angeli, perché nel momento in cui loro ci comunicano un evento, io chiamo la Guardia di Finanza, la Guardia è un'esperienza di che evento si è verificato, ma noi dobbiamo essere i primi, non dobbiamo essere omertosi. D'altra parte, se qualcuno si fa male, noi non facciamo altro che dire ai Carabinieri anche, per esempio, coinvolgiamo la popolazione, per esempio, quando si fanno, noi vediamo dei furti in tante ville isolate, che spesso è un problema, però spesso noi stessi, dei giorni prima, io lì che i cittadini vedono delle macchine strane, magari non conoscono, specie nei paesi, non conosciute, anche prendere un numero di targa e comunicarlo alla stazione è qualcosa di utile, cioè noi dobbiamo riprenderci ed essere protagonisti del nostro territorio, noi non dobbiamo essere omertosi, non dobbiamo girare la testa dall'altra parte, ma dobbiamo affrontare, perché il male, il crimine è veramente minimale rispetto alla bella gente, però, ecco, sembrerebbe che il crimine è più forte nel presentarsi e noi invece siamo un po' più passivi, c'è bisogno di queste inversioni di tendenza. Grazie. Mi chiamo Leonora Campagna, secondo la classe prima, come si potrebbe combattere in Calabria il fenomeno Andrangheta? L'Andrangheta, già credo che oggi in Calabria, ecco, da parte della magistratura e delle forze dell'ordine siano stati infetti veramente, ecco, dei duri colpi, ecco, ma l'Andrangheta, allora, prima di tutto, voi dovete considerare una cosa, che tutte le mafie hanno bisogno che voi rimaniate ignoranti, perché l'ignoranza è un elemento fondamentale per l'Andrangheta, perché chi è ignorante, d'altra parte, è più facile. E quella famosa scorciatoia che dicevamo alla prima domanda, chi ti promette tanto poi ti trovo il concorso, tanto poi, è proprio quella, cioè è proprio l'atteggiamento che deve cambiare. Cambiando l'atteggiamento è ovvio che anche l'Andrangheta incomincia ad avere dei duri colpi, per esempio la Prefettura, il bravo sindaco, che fa? E incomincia a dare, cioè gli appalti soltanto a quelle ditte che sono ditte in regola, cioè se la legalità, ecco, diventa lo strumento di tutti, cioè tutti i sindaci, ecco, gli appalti vengono espletati legalmente con le ditte delle white list, se l'Andrangheta viene ridotta a lui vicino, è come qualcuno che non ha più da mangiare, allora se non è andata a mangiare si spegne e muore, se noi l'alimentiamo con atteggiamenti illegali facciamo altro che farla crescere, è come la brutta e la gravinia, no? Nei tanti, se tu continua ad alimentarla cresce, se tu la recibi e non gli dai più niente, muore. Quindi anche tutto è una questione complessa, etica, che non fa parte solo, le forze dell'ordine ecco subentrano dopo per bloccare, però noi dobbiamo avere uno stile comportamentale ognuno, così dopo. Grazie. Mi chiamo Domenico Tardano e sono la nonna e fregando la terza. Che vuoi fare da grande? La grande vuole fare il giornalista. Ah, beh, beh. Tra i casi di cui vi siete occupato, quale è stato il più difficile? Beh, sicuramente io oltre, ora sono perfetto da sei anni ormai, però io ho fatto il commissario straordinario in alcuni comuni un po' difficili. Allora, voi non so se sapete che esiste un comune che si chiama Platì. Il comune di Platì sta nella Spromonte, era un comune che era terra di sequestri di persona. Cioè immaginate che una volta una persona rapita riuscì a liberarsi e i cittadini lo riportarono dai rapitori. Eh, Platì è nata per quello. Se voi digitate su internet Platì, troverete la scritta dove l'andrangheta controlla anche il respiro. Allora, cosa è stato difficile? È stato difficile, ecco, molto impegnativo, però anche molto ricco, avere la fiducia di quella gente. Avere la fiducia di quella gente e farmi capire che l'assistenza sanitaria è un diritto dei cittadini. Cioè avere una guardia medica è vero, diceva l'andrangheta, ma i ragazzi andavano a scuola e le scuole cadevano a pezzi, non c'erano i riscaldamenti, nessuno parlava, la guardia medica era uno stabile patiscente. Allora bisogna operare, sicuramente una bella sfida, come un'antimafia di fatti. Cioè tu devi dare alla popolazione l'opportunità di scegliere dicendo che lo Stato, ecco, riesce a darti quello che invece l'andrangheta ti fa passare, ecco, per favore, ecco, o come se fosse una concezione. Sicuramente è stata per noi una bella sfida. Buongiorno, mi chiamo Fatima Perrone, secondo la classe prima di inalte. Rispetto al passato il bullismo è maggiormente diffuso, come mai? Beh io quando mi dicono che è più diffuso del passato, beh io vi dico che la prima bullizzata della storia, forse è stata Cenerentola dalle sorelle, è stato Robin Hood dallo scelissimo, quindi se vi ricordate, però scusatemi, quando Cenerentola era bullizzata dalle sorelle, chi ha vinto? Le sorelle o Cenerentola? Cenerentola. Chi ha vinto? Robin Hood o ha vinto lo scelissimo? Ha vinto Robin Hood? Sicuramente, allora, sicuramente il bullismo c'è sempre stato. Il bullismo non diciamo che sia la piaga di oggi. Forse probabilmente, ecco, oggi viene enfatizzato anche dal, sicuramente dal discorso, ecco, dei social, perché prima, ecco, rimaneva magari un po' ridicolizzare il ragazzo un po' più difficile, ecco, ora diventa quasi una sfida. E quindi sicuramente la Prefettura è anche impegnata in molti progetti sul cyberbullismo, sul bullismo, perché la cosa, il messaggio che noi diamo nelle scuole, e spesso insieme ringrazio tutte le forse loro che facciamo lezioni di legalità, considerate che il bullo è una persona debole, è una persona malata, che va curata, ed è lui la persona sbagliata. Cioè, se noi riusciamo, cioè, se una persona, cioè, voi vedete un ragazzo, no? Che va e da chi va? Alla bambina che magari si muove poco, al bambino che si muove, perché non affronta invece un suo coetaneo, ecco, magari è un metro più alto di lui e lo affronta. Allora che cosa vuol dire? Che il burlo è un codardo, il burlo è un debole e quindi anche da parte vostra segnalarlo alle brave insegnanti non è fare la spia o non è quello, è fare in modo che questo ragazzo venga aiutato, perché questo ragazzo avrà dei problemi sempre da grande comportamentale. Quindi aiutatelo e se da soli non si può aiutare, ditelo alle vostre insegnanti. Non è fare la spia, ma è aiutare un compagno difficile. Grazie. Buongiorno, sono la Tomasa e scrivendo la seconda B. Le volevo chiedere, come spiegherebbe negli gesti quotidiani a noi ragazzi la legalità? Ma la legalità, io ve l'ho detto e ve lo sto spiegando in diverse risposte che vi sto dando, la legalità non è il posto che noi dobbiamo raggiungere, la legalità non la dobbiamo fare ogni giorno, la legalità è rispettare la fila, la legalità è aiutare il compagno che è caduto, la legalità è fare i compiti e non copiarli, la legalità è non andare col motorino senza casco, la legalità è quotidiana, non è che la legalità è qualcuno, abbiamo mai il posto sulla legalità, la legalità la facciamo tutti i giorni, la legalità è va rispettata, è rispetto e fa parte del nostro comportamento. Allora, grazie veramente, oggi è stata una bellissima lezione sulla legalità, quindi io vi ringrazio perché la collega Costanza Pino mi diceva che vi ringraziamo di questo dono, ma io penso che sia esattamente il contrario, che siano questi bellissimi ragazzi il dono che voi avete fatto a me oggi e devo dire siete stati anche abbastanza attenti, abbastanza precisi, dico e ringrazio ancora il dirigente e il corpo docente, anche perché oggi la scuola spesso diventa anche, come anche la chiesa, diventano anche sussidiarie anche molte volte alla famiglia, dove a volte la famiglia per tanti motivi ci possono essere e la scuola aiuta, anche perché nella scuola i ragazzi trascorrono anche la maggioranza delle ore, quindi ecco perché il compito degli insegnanti è veramente importante. Io volevo ringraziare, vi dico Costanza Pino, io lo dico, ora commissario e prefetto diciamo, ma siamo amiche da una vita, siamo amiche da una, veramente una persona straordinaria, con un grande senso dello Stato e penso che, e vedo da quello che sto vedendo oggi, credo veramente che abbia lavorato bene, quindi le facciamo un applauso anche perché ormai a giorni lancerà il Comune di Chiamante. Comune di Chiamante che io avevo già conosciuto nella mia precedente esperienza quando ero stata viceprefetto di Caro, l'avevo conosciuto. Sicuramente ecco delle piccole riflessioni, ho ringraziato ormai voi tanto perché voi ci date tanto una mano, certo ora poveretti col fatto che io giri in tutti i comuni dovete venire anche voi, però è un piacere perché voi date tanto alla collettività, perché io ritengo che il prefetto non debba stare nel palazzo, perché nel palazzo ci sono i propri funzionari che lavorano, ecco il prefetto deve essere, certo 150 comuni sarà un'impresa dura, però anche una metà ecco mi piacerebbe visitarli. Quindi poi Chiamante ha avuto questa grande capacità, io l'anno scorso sono arrivata e sono stata proprio come la forza, la prima uscita è stato il festival del peperoncino, quello di aver fatto questo salto di qualità che è importante che facciano tutte le comunità, cioè quelle che prima erano delle mie sagre di paese, ora devono avere questo valore aggiunto, cioè a fianco a quella che è la valorizzazione del prodotto, che può essere il cedro, che può essere il peperoncino, costruire un movimento culturale, cioè solo così noi riusciamo a tramandare quelli che sono gli usi e i costumi, altrimenti rimaniamo alla fiera, rimaniamo alla sagra e noi sicuramente non vogliamo che sia questo, non vogliamo che venga riconosciuta, oltretutto abbiamo visto la presentazione anche alla Camera dei Deputati, cioè noi Diamante, devo dire Diamante è comunque una comunità con una storia già acclarata, con una bellezza, non è il piccolo centro, ecco sconosciuto, ha già una grande storia, però io mi auguro e quello che auguro è che le future amministrazioni riescono ancora di più a creare questo volano, a creare turismo, sano turismo che possa far conoscere e poi oggi fare il sindaco è una missione anche abbastanza difficile, perché il sindaco non solo deve amministrare con una volta, ma deve anche trovare finanziamenti europei, essere al passo, accedere ai finanziamenti del Ministero dell'Inter, cioè deve essere un sindaco e un'amministrazione capace, ecco perché altrimenti se soltanto ed esclusivamente fa l'ordinario, allora non va bene, quindi io mi auguro, penso che ne abbia tutte le capacità, ecco per fare in modo che Diamante veramente possa andare, è uno dei centri veramente fortemente attenzionati e che ha delle grandi potenzialità, voi pensate che alla Calabria ci sono dei paesi che io ho proprio visitato, tipo San Lorenzo Bignuzzi, che non riescono a fare la classe elementare ma hanno la classe unitaria, cioè voi immaginate che vanno bambini dalla prima elementare alla quinta elementare, perché sono così arroccati sulla montagna che non possono andare neanche nel paese vicino, ieri all'Appano, all'Appano non nascono più bambini, vanno a rovito, a scuola, hanno chiuso la scuola, beh io mi auguro comunque che voi possiate studiare, lavorare e rimanere in Calabria, noi abbiamo una grande responsabilità che ce l'ha il governo, che ce l'hanno gli amministratori, che ce l'ha la provincia, che ce l'ha la regione, cioè quella di ovviamente di darvi l'opportunità di rimanere in Calabria, cioè voi volete rimanere in Calabria, sì o no? No! E se non lo rimanete in Calabria? O è la Calabria Diamante? Non se la ricorda più nessuno, voi dovreste essere fieri di appartenere a questa comunità, dovete lavorare e rimanere a Diamante, creare bellissimi stabilimenti balneari, creare alberghi, darli all'attività, anche fare i politici, oh il sindaco deve uscire da voi, dovete fare sindaco e giunta, cioè ragazzi noi ci impegniamo, però io ringrazio ancora il corpo insegnante, ringrazio tutti, cioè noi dobbiamo fare in modo che anche i ragazzi da grande anche si avvicinino anche alla politica, perché la politica è qualcosa di positivo per una collettività, la sana politica, quindi non è che come fate voi i politici che fanno quando a buco, ci sono i politici che sbagliano e non vengono più diretti, però c'è bisogno delle istituzioni, c'è bisogno della politica, c'è bisogno che tutti possano lavorare insieme, vi vedo già un po' distratti, comunque io vi ringrazio nuovamente, ringrazio te per quello che stai facendo, il più bel augurio, ultimo commissario straordinario, voi avrete per sempre i sindaci e poi la dottoressa ce la prendiamo in un altro bucino, va bene, grazie Grazie